Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Io sono Anita e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Oggi vi porto con me a fare un giro al centro commerciale della biosfera qui in Porto del Carmen. Come diciamo sempre ragazzi, nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, cliccate sul pulsante iscriviti e attivate la campanella così da non perdervi nessuno dei nostri video. Bene ragazzi, io sono pronta per partire per il video, ma prima volevo ringraziare tutte le persone che in questi giorni hanno lasciato un commento con il luogo che gli piacerebbe visitare. Noi elaboreremo tutte le vostre richieste e nelle prossime settimane ci organizzeremo per fare in modo di accontentarvi tutti. Come sempre, continuate a seguirci ragazzi e grazie per il vostro sostegno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.